Ciao a tutti! Come state? Oggi ho un nuovo look! Ti piace il mio nuovo look? Sì! Bellissimo! Ma vedo tutto blu però! Ma è tutto blu? O sono io che vedo tutto blu? Sì! Io vedo tutto blu? Sì! Ciao ragazzi! Avete visto il nostro ultimo video di carnevale? Sì! Se vi è piaciuto e soprattutto volete vedere questo, mettete tanti like e iscrivetevi al canale! Dobbiamo arrivare a mille iscritti! Dai su! Tutti insieme ce la dobbiamo fare! Anche perché con questi occhiali è merito a mille iscritti, vero? È vero! Allora, cosa vogliamo fare oggi? Oggi Gabriele è tornato da scuola e ha detto Mamma, giochiamo al... Vivo! Al mimo! Ho detto va bene! Allora giochiamo al mimo e facciamo vedere ai nostri amici come si gioca al mimo! È vero? Sì! Ecco! Allora possiamo partire! Prendi le carte! Perché? Posso togliere questi occhiali così magari sono più incredibile? Sì! Grazie! Ciao! Allora! Prendiamo qua! Prendiamo le carte! Avete mai giocato al mimo? Gabriele, secondo te loro hanno mai giocato al mimo? Sì o no? Sì o no? Scrivetelo al canale! Scrivetelo al canale! Scrivetelo nei commenti! Nei commenti! Vai! Allora! Prendiamo le carte! Prendi le carte! Facciamo vedere! Anche tu? Ecco! Sono queste le carte! Facciamo vedere! Sì! Allora! Chi vince? Cosa vince? Un bel... Ciupa! 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 Chissà chi lo vincerà! Io! Tu? Sempre tu! Sempre tu devi vincere! È vero? Ok! Dai! Iniziamo! Allora! Dammi le carte! Io lo tengo! Non lascia lì! Va bene! Dammi le carte! Facciamo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Undici per te! Undici carte per te! E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! E undici carte per mamma! Vita! Mamma vita! Eh? Viglio Gabri! Viglio Gabri! Allora! Iniziamo! Inizi tu? Sì! Mettiamoci di qua così i nostri amici possono vedere quello che mimiamo! Sì! Vai! Inizia tu! Vai! Me lo vuoi ripetere? Ma per caso... Cantare! Sì! Cantare! Cantare! Mamma mia! Mi ha indovinato! Ora tocca a me! Un mio punto! Ecco! Guarda eh! Te lo faccio vedere lì così io guardano anche loro! Guarda! Lavare i denti! Com'hai fatto? Come hai fatto? Lavare i denti! Bravissimo! Chi vincerà questo ciuppa ciuppa? Chi vincerà? Chi vincerà? Vai tocca a te! Guardate questo ciuppa ciuppa! Tocca a te! Tocca a te! Io non guardo eh! No! Non guardare! Non guardo eh! Io vedo nella telecamera! Non guardo eh! Dai! Vai! Vai! Presa la carta! No! Senti qua! Ma l'ha visto? Dai! E' bevi guardare! Dai! Veloce questa carta! Su! Chi vincerà! Ma non la vedo da lì! Ce l'hai in mano! Come faccio? Guidare! No! No! Che cosa può essere? Andare in bicicletta! No! E cos'è? E cos'è? Leggere! 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 Guardate! Leggere! Ma non dobbiamo indovinare! Eh sì! Proprio leggere! Vai! Ora tocca a me! Sei pronto? Questo è lui! Sei pronto? Sì! Guarda! Ti fiorito! No! No! L'ha inflato! L'ha inflato! E' vincito tu 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 tu! Vai! Tocca a te! Vai! Tocca a te! Vai! Dai! Che gli occhi! Che gli occhi! Vediamo! Vai! Mi metto qui! Quello sbagliato! Qua! Quello sbagliato! Qua! Qua! Va bene! Dove? Dove è quello sbagliato? È finito! Ora tocca a me! Guarda! Spera! Guarda! Gatti! Grazie! Bravissimo! Suonare la chitarra! Guardate! Suonare la chitarra! Eh ma tu sei proprio... Veramente sei proprio fortissimo! Ora tocca a te! Ora tocca a te! Grazie! Ah ma stai già mimando? Non me ne ero accorta! Vediamo! Fallo bene perché sennò i nostri amici non capiscono cosa stai facendo! Gabriele! 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 Come sei? Dove sei andata? Gabriele! Gabriele! Ah eccoti! Che cosa stai facendo? Ah! Il cagnolino! Il cane! Ma tu facevi... Sì! Sì! E così fa il cane! Sì! Ah perché non volevi far sentire! Sì! Ah! Il cane! Un punto a mamma! Vedete? Questo cane! Sei pronto? Sì! Guarda eh! Sì! Ridere! Bravissimo! Ridere! 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 Ok! Tocca a te! Vai! Tocca a te! Sono rimaste poche eh! Abbiamo quasi finito! Abbiamo tante! A te tante? No! Guarda! Ok! Vai! 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 Puoi farlo di nuovo per favore? Raffreddore! No! Vediamo! Prova di nuovo! Ancora! È un mimo! Come faccio a capire? Vai! Prova ancora! I pugni! Oh bagno! Tu cos'era? Piangere! Piangere! Era così facile anche questo! Ho sbagliato! Vedete questa bimba! Ho sbagliato! Ora tocca a me! Quindi questo è il tuo! E dov'è quello sbagliato? Quello di prima tu? Guarda eh! Dov'è quello sbagliato tuo? Eh non lo so! Ah qua sono buono! Non lo so! Ora tocca a me! Guarda eh! Ci sei? No! Sei pronto? Sì! Lavare le mani! Lavare le mani! Allora io mi arrendo! Mi arrendo! Mi arrendo! Lavare le mani! Le sa tutte! Le sa tutte! Vai! Ora tocca a te! Allora facciamo una cosa! Mamma va in bagno! Ok! Ci fermiamo un attimino! Qui ci sono le mie carte! Non spiare! Ok? Ok! Mi fido di te! Ok! Va bene! Ok! Le lascio qui! Va bene? Sì! Non spiare! No! Arrivo subito! Sì! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando! Eccoci! Allora! Hai spiato? No! Sicuro? No! Va bene! Ecco! Ora tocca a me! Sei pronto? Sì! Sì! Fesce! Fesce! Sei sicuro che non è spiato? No! No! Va bene! Va bene! Mi fido! Mi fido! Indominato! Ora tocca ancora a te! Vai! Vai! Allora! Gli ultimi due! Dai! Ora tocca a te! Vai! Cos'è? È l'acqua! Il rumore dell'acqua! Un ragnetto! Un ragnetto! Non è sbagliato! Cos'è? Il serpente! Il serpente! Guardate! Era difficilissimo questo! Ah sì! Serpente! Ora tocca a mamma! Guarda eh! La batteria! Ma non mi dai il tempo! Fammi divertire! Vai! Guarda tocca a te! Ancora? Eh sì! Senti ma è l'ultima! È l'ultima! Vai! Ah vedi! Hai mal di testa? Sì! Ah stai già mimando? Sì! Ah vediamo! Cosa può essere questo? Ah ti senti svenire? No! No? Sei malato? Sì! Ah la febbre! Ecco la febbre! L'ho indovinato! Sì! Un po' malaticcio! Sì! È vero? Sì! Ora tocca a me l'ultima! L'ultima e decidiamo che ha vinto! Ok! Sei pronto? Sì! La scimmia! La scimmia! Questo è Gabriele quando era piccolino! Gabriele è piccolino! Abbiamo finito! E quindi chi è il vincitore? Io! Chi? Io! Sei sicuro? Sei sicurissimo? Sì! E allora questo è per me! Ah voglio mangiare! Voglio mangiare! Voglio mangiare! È per me! Voglio mangiare l'ora! 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 È una bella canzone nostri amici! Sì! Siamo pronti? Sì! Allora! Siamo pronti? Sì! Allora! Siamo pronti? Sì! Iniziamo! Vai! Questa è una canzone scritta con la matita! Eccomi presento! Io sono Mamma Vita! Ora ciò che a me! Sono figlio Gabby! Faccio un po' il bericchino! Mi piace la scusa che gli amici giocherebbe la mia mamma! Volevi ritornare! Sì! Siamo belli! Ci divertiamo! Tanti video per voi li creiamo! Mettete tanti like se questo video vi è piaciuto! Mamma Vita! Il figlio Gabby vi mandano un saluto! Ciao! Ciao!